salve a tutti e benvenuti ad una nuova lezione di teoria musicale applicata oggi parleremo del setticlavio qui vediamo disposte le chiavi che già conosciamo che vi ho presentato in un precedente video che vi linkerò abbiamo la chiave di sol chiave di violino la chiave di do e la chiave di fa che sono poste in differenti posizioni vediamo nel dettaglio la chiave di violino si segna esclusivamente sul secondo rigo quindi indica la posizione del sol sul secondo rigo la chiave di do la posso trovare segnata sul primo rigo e in questo caso si chiamerà chiave di soprano sul secondo rigo si chiamerà chiave di mezzo soprano sul terzo rigo si chiamerà chiave di contralto sul quarto rigo si chiamerà chiave di tenore la chiave di fa invece la posso trovare segnata sul terzo rigo ad indicare quindi la posizione del fa sul terzo rigo e si chiamerà chiave di baritono e sul quarto rigo che si chiamerà chiave di basso vedete come nel caso della chiave di do il do si troverà nello stesso rigo della chiave perché la chiave indica proprio la posizione del do quindi sul primo rigo sul secondo sul terzo e sul quarto nel caso delle chiave di fa il do lo troverò in un'altra posizione perché la chiave di fa indica la posizione del fa allora io devo andarmi a cercare il do che si segnerà qui in chiave di baritono e qui in chiave di basso se io ascolto queste note posso sentire come anche se occupano una posizione diversa sul pentagramma sono la stessa nota bene avete visto come il do centrale è sempre lo stesso anche se la posizione cambia io passo da una posizione del do sotto al pentagramma e quindi lasciando il pentagramma libero per le note acute in chiave di violino ad una posizione sopra il pentagramma con il pentagramma libero per le note più gravi in chiave di basso l'ho spiegato già in un precedente video perché si utilizzano queste chiavi nella pratica comune non incontrerò tutte queste chiavi le chiavi più usate sono le chiave di violino per tutti gli strumenti che hanno un registro più acuto quindi chi suona il violino il flauto il clarinetto l'obboe la tromba la chitarra legge in chiave di violino chi suona strumenti con il registro più grave il violoncello il fagotto il trombone il basso tubo il contrabbasso leggerà in chiave di basso la viola è uno strumento con la voce più grave rispetto al violino legge in chiave di contratto mentre strumenti come il violoncello il fagotto o il trombone tenore che hanno un'estensione che va dal grave fino a note abbastanza acute può trovare nella sua partitura anche la chiave di tenore le altre chiavi le posso incontrare nello studio del contrapunto classico quando si richiede la scrittura nelle chiavi antiche quindi scriverò in chiave di soprano in chiave di mezzo soprano chiave di tenore anche in chiave di baritono in tutti i casi chi studia musica deve saper leggere in tutte e sette le chiavi in un video futuro vi spiegherò come fare a leggere in tutte e sette le chiavi in una maniera semplice e che vi darà l'opportunità di ricordarlo per tutta la vita spero che questo video vi sia stato utile vi invito a commentare se avete qualche domanda da fare qualche dubbio che volete chiarito vi invito anche ad iscrivervi al canale e seguirmi per ulteriori video ciao a tutti